Amazon Music Unlimited sbarca in Italia. ANSA, Roma, 14 settembre Amazon sfida Spotify in Italia. Lancia nel nostro paese, Music Unlimited, un servizio di musica on demand che mette nelle mani dei clienti un catalogo di oltre 50 milioni di brani, centinaia di playlist e radio personalizzate. Da Katy Perry ai Coldplay. Da Elvis Presley a David Bowie. Da Fabrizio De A.N.D.R. a Vasco Rossi. Il servizio ha un catalogo completo di artisti internazionali e italiani. In testa alle classifiche. Il costo in linea con i concorrenti. Ci sono anche soluzioni family che danno accesso a sei componenti della famiglia. Contemporaneamente, la reazione dei clienti per il lancio di Amazon Music Unlimited in USA, Regno Unito e Germania ci ha entusiasmato e siamo felici di rendere disponibile il servizio ai clienti di Italia, Francia e Spagna, afferma Steve Boom, Vice Presidente di Amazon Music. ANSA.